Da un'analisi condotta dal dottor Ezio Amistadi, esperto di strategie di sviluppo per aziende e territori, è emerso che il turismo alto-gardesano percepisce una netta carenza del territorio in termini di cultura, attività e modernità. I valori non sono negativi ma neppure evidenziano una piena soddisfazione. Presso la biblioteca comunale di Arco, l'esperto ha esposto e commentato i dati raccolti attraverso un questionario che andava ad indagare la percezione degli ospiti. Sulla scala da 0 a 3 il progresso tecnologico del territorio, le proposte culturali e le attività che questo propone non vanno oltre lo 0,5. Non è una situazione completamente allarmante, ha spiegato Amistadi, in altre zone va anche molto peggio. Questo però, continua l'esperto, ci mette davanti al fatto compiuto che non conosciamo il nostro ospite. sappiamo poco di lui e di come ci vede. Progettare vuol dire conoscere, ci tiene a sottolineare Amistadi. Da noi si continua a dare risposte alle esigenze primarie, quelle che per la vocazione del territorio sono oggi rappresentate dal mondo sportivo dell'outdoor. Secondo l'esperto, si è quindi dipendenti dal mercato e ciò esporrebbe Arco e l'Alto Garda a dover far fronte, prima o dopo, a una concorrenza spietata. Il rischio esposto da Amistadi è esattamente quello di finire per fare il contrario, abbassare i prezzi per avere maggiori numeri costanti e guadagni.